eccola la finale come vedete dalla grafica l'avversario che affronteremo è il belgio l'italia l'ha già battuto nei quarti qualche giorno fa ma noi dopo aver battuto la germania 4 a 3 ai supplementari in una gara pazzesca affronteremo il belgio che a sua volta ha battuto l'inghilterra se non sbaglio sì questo è il riepilogo del torneo fino a qui vediamo classifica gol aia 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 ci abbiamo il capocannoniere per ora ha vinto c'è perché a meno che lukaku non faccia tre gol in questa partita abbiamo il capocannoniere del torneo quindi non male continuo col mio schema molto interessante sì sì per ora sì insigne è stato invisibile nella partita precedente speriamo possa essere un po' più d'aiuto in questa perché non ha fatto nessun tiro a giro ma proprio non l'ho visto nemmeno diciamo che vogliamo interagire compagni vuole anche dire che giochiamo prevalentemente nella parte destra del nostro campo eccoci alla finalissima la coppa era lì siamo separati da 90 minuti eccola la cosa bella è che sarà l'ultima volta che sentiremo queste sono le bandiere ok erano le bandiere dei tifosi italiani non male è l'ultima volta che sentiamo caressa i giocatori del Belgio separati, ognuno con la mano sul cuore non si abbracciano vediamo come risponderanno i nostri non gioca Courtois o non gioca Courtois spulso, infortunato, non lo so può essere tutto perché procede Bruin, c'è anche Hazard Lukaku l'ho visto, Vizzer è lì ora il prossimo è quello dell'Italia caressa, sveglia dai ecco i nostri, il trio avevo promesso che mi sarei alzato però va bene comunque così i ragazzi sono in piedi si abbracciano sono tutti pronti per il prossimo festival di Sanremo Donnarumma contiamo molto su di te oggi se ero agitato nella prima partita in quella precedente con la Germania oggi lo sono ancora di più perché abbiamo tutta la nazione che ci sta guardando ci sta supportando anche questa è la nostra Formats la classica ormai devo dire che a cui ci siamo abituati invece quella del Belgio se ce la fanno vedere volentieri eccoci Castel gioca il resto più o meno sì più o meno in linea con quanto hanno fatto vedere dell'oro Euro 2020 sfortunato grazie alla nostra vittoria qualche giorno fa appunto come commentavo in precedenza si parte ragazzi siamo a un centimetro da scrivere la storia e partiamo molto bene regalando e fanno sempre tutti sto cazzo di giochino indietro avanti molto calma molto calma non becchiamo un fallo veramente nemmeno a pagare e e e questa è una bestia questa è una bestia anche al gioco è veramente un fenomeno dovremo un attimo ripigliarci perché ha avuto due uomini addosso riuscito a girarsi addirittura a mettere un pallone che Donnarumma non ha nemmeno visto partire si è rifugiato in calcio d'angolo dai però è Gigio che abbiamo vincere non esultare una parateggia chi è che va chi è che va qua insigne che copre la corrente De Bruyne la mette per Witzel anticipiamo noi gli lasciamo però forse il tiro no questa è una giocata del no come avete visto di nuovo tutto un mega bug del cazzo perché potremmo partire e invece i nostri si scontrano regaliamo il tiro a Lukaku che per un vorrei bestemmiare ma per rispetto di chi crede non lo faccio ma ci sarebbe da elencare tutti i santi presenti nel calendario di qualsiasi religione perché non è possibile non sto capendo nulla secondo me è il gioco che mi sta spingendo a rompere il joype perché fanno errori su errori miei da soli con calma così vi voglio così vi voglio ah mente che non so cosa ha fatto il mio Giorginio preda ad allucinazioni strane si è lanciato dietro mente che per terra da solo questi stanno facendo un po' di melina l'italiano ha mai tirato in porta c'è caressa che ci stuzzica com'era questa caressa ti è piaciuto il numerino ho voluto farlo in maniera elegante guarda qua pressing fatto da 4-5 immobile la recupera forse numero pazzesco forse poteva passarla ma abbiamo solo voluto giocarla contro caressa questa raga andiamo a vincere eh no eh no c'è un mente che che si è lanciato da solo bravissimo bonuccino palla lunga mi sa che è fuori gioco però e questo è il capo cannoniere del campionato europeo palla di bonucci che oserei dire perfetta e vera sarebbe un diminutivo tensione che si fa sentire comunque guardate che palla immobile che anticipa il difensore si mette tra palla e avversario e la mette sul secondo palo proprio sul palo in maniera perfetta devo dire che siamo veramente vicini al conquista dell'europeo riapprezziamo l'azione di Ciro Ciro si porta a sette reti quindi Lukaku come avete visto non la sta giocando questa ma era nella classifica marcatori semplicemente sei infortunato o o è squalificato va bene per noi però sti cazzi cioè stavamo rischiando di uscire contro la Germania questi fanno lo solito giochino però dopo un po' dopo un po' ma lì era nostro questa era nostra ce l'hanno di nuovo spiriti maligni ce l'hanno tolta la Bonucci la presa con Bastog dai questa è uscita di sembrava molto più vicino al palo in diretta facciamo qualche numero in attesa ci siamo grandissimi grandissimi ah volevo saltarlo in velocità avrei potuto fare di tutto ma quella era l'unica giocata sbagliata questi si divertono a portare palla così a passarsela fin quando non arriva uno dei nostri quello era fallo era fallo per noi arbitro pazzesco pazzesco c'ho dei giocatori davanti che sono mostruosi un pressing assurdo questi perdono palla e uno due veramente ci porta al tiro in maniera grandiosa grandi 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 anche Insigni ha partecipato con il sviluppo dell'azione in precedenza 2 a 0 fino al primo tempo praticamente guardate qua spingiamo di prima Berardi immobile di tacco e Zaniolo la mezza di un secondo grandi sembra tutto facile però credetemi che non è non è proprio così certo possiamo stare un po' più tranquilli però non è proprio basta una cazzata tipo questa che Bonucci esce quando non deve e volevo semplicemente farlo notare sembra tutto facile ma basta una giocata e l'intelligenza artificiale si dà delle arie guardate che roba che ha fatto questo anche qui total control situazione riesco a farmi fottere numero mamma mia la metti sul secondo a girare devo dire che non è meritato il gol perché non ha fatto nulla ma il gol è così bello che ce lo meritiamo noi per come è stato guardate che roba non è contro De Bruy contro De Bruy l'avrebbe presa il nostro Gigio e invece no si riparte devo dire che mi sono un po' rilassato nonostante stessi dicendo non è facile non è facile veramente non è facile il cazzo se cazzo schifoso finta di barellino non così non così ho sbagliato il tastino dovevo giovarmi dall'altra parte eccoli qua che ripartono beati no no eh veramente deve finire il primo tempo perché si è andato un attimo in bambola guarda qua guarda qua guarda qua cosa cosa riusciamo fuori gioco arbitro per lui no assurdo l'assar meno quotato ci ha bastonato mamma mia che vergogna in due minuti no comment mi stavo veramente rilassando qua no non ho toccato palla hanno accelerato un secondo e sì ovviamente è arrivato da dietro minchia che gol tirando la palla che rimbalzava alta boh fine primo tempo 2 a 2 con due cappelle nostre tutto da riscrivere male ma male 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 stavo già nella mia testa pensando a fare esordire chi non aveva mai giocato finora e invece raga uno spogliatoio schiaffi per tutti adesso andiamo avanti stiamo giocando veramente contro un'intelligenza artificiale che sta facendo un po' di truschini eccessivi secondo me me la sento che stanno un po' barando grande ciro però abbiamo zagnolo in squadra diventa tutto più semplice una gran mina questa dal limite dai facile zagnolo artefice del nostro successo per ora non deconcentriamoci è bastato veramente poco per riconnettere il cervello e questi non hanno visto palla dai dai arroganti ci piacciamo così arroganti dai Berardi scuotili un po' insignia molto più alto qua che è un vero è un vero gioco di prima gran numero a girare qua veramente caricato e mirato verso l'incrocio me l'ha messa lì devo essere sincero era voluta stop anche uscire in controtempo rispetto al difensore che mi perde sì 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 è pazzesco questo sì che meritato grande Nicolò tutto manca tutto tutto secondo non è finita però veramente non è finita perché vorrei evitare un altro un'altra rincorsa questa era inutile ok un po' meglio perché avevo visto Giorginio andare solo che forse Giorginio non è così rapido iniziamo a far fallacci nooo calma giochiamolo anche col Donnaroo ha rischiato un po' ci gira testa alta Verratti avanza avanza così sì 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 che non ti seguono più vediamo se vogliamo fare un gol lui ha perso l'ultimo tocco ah cazzo me ne ero accorto subito me ne ero accorto subito ma era già lanciato è troppo tardi per cambiare questi lo fanno il gioco lungo dai Donnaroo molto bene molto bene comunque Merardi Ciro tutto facile è tutto facile adesso sì 4 a 2 e Domenico è arrivato anche lui finalmente sul tabberino dei marcatori veramente questi stanno spingendo un po' troppo ci lasciano voragini gran numero qua di nuovo salto tutto voluto tutto cercato e tutto ottenuto Ciro di nuovo grandissimo palla bella 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 secondo palo finora 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 veramente disputato un europeo da paura ci stiamo meritando la vittoria ecco che entra Mertens ed esce Benteke che corre più veloce adesso di quanto abbia fatto in tutta la gara loro giustamente ancora sul 4 a 2 cantano esultano sono da rispettare appena la palla esce ci facciamo qualche cambio e facciamo magari entrare veramente a sto punto dei ragazzi che non ha mai giocato eccoci qua anche Sirigu farà del minutaggio mancano 15 minuti alla fine della partita credo sia saldamente nelle nostre mani ma come avete visto prima in questo gioco niente e che facciamo toccare un pallone a Sirigu almeno bravissimo Salvatore Sirigu ho toccato il palloncino e noi andiamo avanti male questa per Belotti però devo dire che sei un grandissimo pezzo di schifoso eh Witzer dai giusto così che facciamo tirare direi non Belotti anche se ho visto più volte proporsi per il T Bonucci oh Giorginio ci sta Giorginio ma non credo entrerà mai ci si prova siamo comunque un po' fortini in queste in queste punizioni raga 10 minuti al termine della partita e probabilmente al termine del nostro europeo guarda come sale Bonucci grandissimo immobile lo vede Zagnolo però fatto oh 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 male acerbi si fa apprezzare per questa bella chiusura Pellegrini porta pa questi sono delle piccole vacche arbitro arbitro e sono sicuro anche in panchina si è fatto male si è fatto male lo vedo ancora giù esci Sirigu grande è lo squadre fenomeno Salvatore Sirigu fenomeno d'Italia lanciamo Belotti è male sa palla però Pellegrini si è rialzato vediamo dove vanno immobile avanza la passa Belotti che fa la sua giocata classica e ci porta sul 5 a 2 questo è il giochetto di immobile davanti al portiere con un bel grande gallo con un bel movimento di caviglia butta la palla sempre sul seconda raga siamo 5 a 2 manca due minuti vorrei svilanciarmi e vorrei appunto coronarci come i campioni d'Europa dopo questa grandissima campagna come detto prima siamo veramente stati pazzeschi secondo me in difficoltà mi ricordo siamo stati con la Germania e nient'altro lanciamo di nuovo Belotti sullo scatto fallo arbitro peccato un bel 6 a 2 sarebbe stato proprio un sigillo su questa spedizione in terra inglese mancano 30 secondi e poi lasceremo le immagini di festa scorrere tra litri di champagne per brindare a un incontro che sta avvolgendo al termine e poi è un incontro che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.